Abbiamo iniziato questo breve corso ponendoci alcune domande. Qual è il futuro degli spazi didattici? Come possiamo adattarli alle nuove esigenze emerse in questi ultimi anni? Per rispondere abbiamo provato a condividere la nostra esperienza Mated sul campo, cercando di fornire gli elementi base su cui impostare una strategia di lavoro. In questa lezione, per concludere, proviamo a fare un riassunto di quanto è emerso in questo percorso e condividere le ultime riflessioni. Prima di tutto ci siamo fatti un'idea di cosa deve diventare l'aula, non più un ambiente a sé stante, ma un elemento in grado di integrarsi con quell'insieme di risorse esterne, MOOC, piattaforme e altro, che completano lo spazio di apprendimento, valorizzando il ruolo fondamentale del docente, come regista della progettazione della sua esperienza, e degli studenti come attori attivi e costruttori di contenuti. L'aula inoltre deve essere adattabile a diversi setting e deve assicurare pieno accesso alle proprie risorse per il raggiungimento degli obiettivi del docente, garantendo il massimo comfort cognitivo e fisico per tutti. Così come in uno scenario puramente frontale possiamo pensare di disporre i tavoli secondo file più o meno definite, allo stesso modo dobbiamo poter ridefinire lo spazio per lavoro di gruppo, nel caso di setting collaborativo, in modo da avere ampia libertà nella gestione della classe durante la lezione. La nostra parola chiave guida deve essere flessibilità, e flessibilità significa anche poter operare secondo una logica di classe estesa, progettando l'integrazione dei sistemi allo scopo di far lavorare bene chi si trova in presenza e chi si trova a casa. Una sfida tutt'altro che banale. Anche la variabile temporale è fondamentale, un tempo di riconfigurazione breve permette di gestire all'interno della stessa lezione più setting d'aula adatti a diverse strategie didattiche. Prevedere i futuri sviluppi tecnologici o pedagogici può essere difficile, ma possiamo lavorare affinché il design degli spazi si adatti al cambiamento. Questo vale in particolar modo anche per l'ecosistema hardware e le integrazioni software, dove è consigliabile puntare su standard aperti e interoperabilità tra sistemi. Inizialmente l'adozione di soluzioni proprietarie può sembrare una scelta comoda poiché offrono soluzioni preconfezionate pronte all'uso che soddisfano i bisogni immediati. Tuttavia diventa problematico quando si cerca di espandere l'ambiente con integrazioni successive o quando, passato un certo periodo, si decide di abbandonare questa soluzione. Le soluzioni proprietarie possono comportare problemi legati alla proprietà intellettuale, poiché dispositivi hardware sono spesso compatibili solo con quella specifica soluzione. Inoltre, le tariffe di accesso ai servizi, inizialmente allettanti, possono cambiare nel tempo, diventando meno convenienti o restrittive. Questo può limitare la flessibilità e la libertà di scegliere alternative migliori o adattarsi alle nuove esigenze. Definiamo alcuni punti fondamentali per supportare gli interventi che dovranno garantire la sostenibilità degli investimenti nel lungo termine, considerando anche i cambiamenti futuri. Dobbiamo trovare il modo di accogliere questi cambiamenti, senza vederli come problemi che metteranno in crisi i nostri sistemi. Mobilità. Per creare un'aula estesa e flessibile, è fondamentale partire dalla qualità della rete Wi-Fi, che dovrà essere sempre disponibile e accessibile. Spesso si tende a sottovalutare gli aspetti legati all'uso della rete, che deve garantire sia la sicurezza che la configurazione per consentire l'interazione tra gli elementi tecnologici, come il poter far lavorare studenti e docenti sulla stessa lavagna interattiva dai dispositivi personali. È essenziale instaurare un dialogo continuo con le strutture IT per individuare le configurazioni adeguate che possano bilanciare sicurezza e prestazioni. In questo modo, l'ambiente di apprendimento sarà dotato di una connettività affidabile e adatta alle esigenze di interazione e collaborazione. Apertura. Abbiamo già parlato di come gli strumenti digitali, Student Response System, Online Collaborative Board, siano fondamentali per stimolare le attività interattive e collaborative. Diventa quindi necessario disporre di questi software in modalità integrabile, ma indipendente dall'hardware d'aula, così da poter essere utilizzati in contesti diversi. La gestione dei flussi audio e video è essenziale in uno spazio d'aula. Questi flussi possono essere utilizzati per collegare l'aula con l'esterno, registrare le lezioni o qualsiasi altra attività all'interno dello spazio. La qualità di questi elementi, soprattutto dell'audio, è fondamentale per creare le dinamiche adeguate. Per garantire la qualità degli scambi è consigliabile favorire l'utilizzo di audio ambientale e sistemi di autotracking delle telecamere. Questi accorgimenti facilitano la comunicazione tra docenti e studenti, creano un ambiente più coinvolgente e interattivo, migliorando l'esperienza di insegnamento e apprendimento. La risposta tecnologica è solo una parte dell'equazione. Per creare le giuste condizioni è essenziale avere figure professionali in grado di fungere da mediatori tra la componente tecnologica, come responsabili istituzionali della gestione IT, aziende fornitrici e installatrici di hardware e software, e docenti e studenti. Questi mediatori sono fondamentali per comprendere le esigenze di entrambe le parti e tradurle in modelli sostenibili. E se vogliamo rivolgere uno sguardo al futuro prossimo, la progettazione di spazi didattici innovativi richiederà una visione proattiva verso l'integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. L'avvento di queste tecnologie apre nuove opportunità per personalizzare l'esperienza di ogni studente. Occorrerà fare i conti con la presenza più pervasiva di dispositivi intelligenti, assistenti virtuali e sistemi di apprendimento automatizzati, che trasformeranno ancora di più il nostro ecosistema di apprendimento.